Benvenuti sul nostro canale. Oggi ci immergeremo negli episodi intensi ed emozionanti dal 253 al 255 della sop'opera spagnola, La Promessa, che andranno in onda dal 26 agosto al 30 agosto 2024. Preparatevi per amore, tradimenti e segreti che vi terranno con il fiato sospeso. Non dimenticate di mettere mi piace, commentare e iscrivervi per ulteriori aggiornamenti sulle vostre telenovelas preferite. Nell'episodio 253 di La Promessa, che andrà in onda il 26 agosto 2024, la situazione a Palazzo è critica dopo l'incendio provocato da Jimena. Catalina è in gravi condizioni e ha urgente bisogno di ossigeno. Tuttavia, Cruz fa di tutto per impedire che l'ossigeno arrivi in tempo, sperando di provocare la morte della sua iastra. Romulo, che ha inalato molto fumo mentre cercava di salvare Catalina, ha una pericolosa ricaduta della sua malattia polmonare. Abel, il medico, avverte che è solo questione di tempo per sapere se si riprenderà. I duchi di Los Infantes arrivano alla promessa preoccupati per la loro figlia Jimena. Scoprono che lei e Manuel non condividono più la stessa stanza, il che li lascia profondamente preoccupati e li spinge a prendere provvedimenti contro i Luian. Nel frattempo, Manuel è sempre più impaziente per il ritardo del conducente che dovrebbe portare l'ossigeno per Catalina. Non immagina che tutto fa parte del piano di Cruz per ostacolare il soccorso. Saranno Pelaio e Mauro a partire in un tentativo disperato di salvare Catalina. Feliciano incoraggia Salvadora a confessare i suoi sentimenti a Maria Fernandez, stanco delle avance di Valentin verso la ragazza. Tuttavia, un ritorno inaspettato complica le cose. Lope ritorna alla promessa. Margarita inizia a sospettare che la relazione tra sua figlia e Curro possa andare oltre la semplice parentela, notando quanto Curro influenzi l'umore di Martina. Curro confida ad Alonso che suo padre gli ha suggerito di arruolarsi nell'esercito. La crescente vicinanza tra il marchese e il giovane non passa inosservata a Ana, che sospetta sempre più che suo fratello le stia nascondendo qualcosa di importante. Nell'episodio 254 di La promessa, che andrà in onda il 27 agosto 2024, i duchi di Los Infantes arrivano al palazzo per portare via Jimena, dopo aver scoperto che è stata lei a provocare il terribile incendio. Jimena viene portata via con loro, lasciando Manuel a riflettere sul grande punto di svolta che questa situazione ha rappresentato nel suo matrimonio. Cruz non perde tempo e continua a sabotare gli sforzi per salvare Catalina. Dopo aver corrotto il conducente per ritardare la consegna dell'ossigeno, taglia i freni del veicolo di Pelaio e Mauro, mettendo a rischio le loro vite mentre cercano disperatamente di procurarsi l'ossigeno necessario per Catalina. La salute di Catalina peggiora di momento in momento, e la situazione diventa sempre più critica. Nel frattempo, Feliciano affronta Petra, chiedendole di rivelare l'identità di suo padre. Petra gli dice che suo padre era un buon uomo che li amava molto, ma si rifiuta di dare un nome. Feliciano confida a Teresa la verità sulla sua relazione con Petra, e Teresa lo incoraggia a non sentirsi in colpa per il passato. I marchesi accolgono Lope di nuovo a palazzo, anche se Cruz lo avverte di non abbassare la guardia. Lope scopre che è stato Mauro a intervenire per farlo tornare, e gli è grato per questo. Cruz continua a insistere che Curro sia ruoli nell'esercito, come suggerito da Lorenzo, ma Curro respinge categoricamente l'idea, causando tensioni tra Lorenzo e Cruz. Nel frattempo, Simona cerca di dare forza a Catalina, che continua a lottare per la sua vita. Pelaio e Mauro, nel loro disperato tentativo di trovare l'ossigeno, scoprono che qualcuno ha sabotato il loro veicolo tagliando i freni. Le loro vite sono ora in pericolo, e tutto fa pensare che Cruz sia dietro a questo sabotaggio. Nell'episodio 255 di La promessa, che andrà in onda il 28 agosto 2024, vediamo Pelaio e Mauro arrivare giusto in tempo con l'ossigeno per salvare Catalina. La giovane risponde bene al trattamento, suscitando grande sollievo tra tutti, tranne che in Cruz, che viene duramente criticata dal marchese per la sua indifferenza verso la salute della figlia. Cruz tenta di minimizzare la situazione, ma Alonso è furioso e la affronta duramente. Nel frattempo, Ana è sempre più curiosa riguardo alla crescente vicinanza tra il marchese Alonso e Curro. Condivide i suoi sospetti con Maria e si propone di scoprire la verità. Ana assiste a un incontro tra Curro e Alonso, traendo conclusioni che non sono lontane dalla realtà. Salvador e Feliciano cercano di capire i sentimenti di Lope verso Maria Fernandez. Feliciano, spinto da Teresa, decide di affrontare Petra e alla fine rivela a tutti che lei è sua madre. Questa confessione lascia tutti senza parole e potrebbe avere grandi conseguenze. Salvador, dal canto suo, si rende conto che la tregua amorosa tra lui, Maria Fernandez e Lope non porterà a nulla. Manuel e Ana si rendono conto che, nonostante la partenza di Jimena, ci sono ancora molti ostacoli che impediscono loro di stare insieme. Decidono di prendere le distanze l'uno dall'altra per evitare ulteriori complicazioni. Manuel confida a Ana che il loro amore sembra essere una chimera, soprattutto ora che Jimena è stata portata via dai suoi genitori. Infine, Salvador si dichiara a Maria Fernandez, mentre Jeronimo osserva Maria accedere all'area delle mermellate, alimentando ulteriori tensioni e sospetti riguardo alle sue intenzioni. Nell'episodio 256 di La Promessa, che andrà in onda il 29 agosto 2024, vediamo Feliciano rivelare a tutti che Petra è sua madre, lasciando i suoi colleghi senza parole. Petra cerca di evitare i confronti con gli altri domestici, sentendosi profondamente imbarazzata dalla situazione. Pelayo e Mauro riescono a portare l'ossigeno giusto in tempo per salvare Catalina, che inizia a mostrare segni di miglioramento. Alonso affronta Cruz per il suo disinteresse verso la salute di Catalina, e inizia a sospettare che ci sia stata una mano nascosta dietro il ritardo del conducente che doveva portare l'ossigeno. Cruz, per evitare ulteriori problemi, licenzia il conducente e lo manda lontano, rendendolo irreperibile. Nel frattempo, Maria Fernandez confessa a Lope che non prova sentimenti per lui e che è innamorata di Salvador. Tuttavia, Lope fraintende e crede che Maria si stia dichiarando a lui. Maria deve anche affrontare Ieronimo, che la minaccia di non entrare più nel magazzino delle mermellate. Curro, frustrato dalle manipolazioni di Lorenzo, decide di rinunciare a tutti i privilegi derivanti dal suo status di figlio di Lorenzo e di distaccarsi completamente da lui. Ana cerca di capire la crescente vicinanza tra Curro e il Marchese, ma Curro si chiude in sé stesso e rifiuta di darle spiegazioni. Pelayo si apre con Catalina, dichiarandole il suo amore e promettendole di prendersi cura di lei per sempre. Manuel e Ana, nonostante la promessa di mantenere le distanze, non riescono a stare lontani l'uno dall'altra e continuano a vedersi di nascosto, nonostante le difficoltà causate da Abel. Infine, Mauro rivela a Manuel di sospettare che il guasto al sidecar del Pelayo sia stato intenzionale e non un semplice incidente. Manuel, determinato a scoprire la verità, è pronto a vendicare sua sorella Catalina. Grazie per aver seguito con noi i riassunti degli episodi dal 253 al 256 di La Promessa. Non perdetevi i prossimi sviluppi e, come sempre, ricordate di mettere mi piace, commentare e iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità. Alla prossima!